. Uomini e donne Gossip, l'ex corteggiatrice Maggie si è fidanzata con il fratello di Federico Gregucci. Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Maggie Gallo pubblica una foto con il suo nuovo fidanzato. Dall'universo di uomini e donne fuoriescono tantissimi personaggi, che rimangono impressi anche una volta terminato il programma. Uno di questi è sicuramente Maggie Gallo, la bellissima ex corteggiatrice di Lucas Peracchi. . La ragazza di origine albanesi, 21 anni, è conosciuta al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma, in qualità di corteggiatrice di Lucas. . Si era contraddistinta per la sua tenacia e per la sua bellezza folgorante. . Il tronista emiliano, seppur attratto dall'irriverenza e dalla sfrontatezza di Maggie, ha compiuto altre scelte, con tanto di fresco matrimonio con Silvia Corrias. . Maggie, dal canto suo, ha proseguito la sua ricerca del grande amore, anche se ha sempre posto un velo di riserbatezza su questo argomento. . Ebbene, questa volta ha deciso di rompere qualsiasi indugio e di rendere pubblica la sua nuova frequentazione. . Come riporta il blog Isa Echia, Maggie ha postato una foto sul suo profilo Instagram con il suo nuovo amore, Alessandro. . Quest'ultimo è il fratello meno noto di Federico Gregucci, anch'esso ex corteggiatore di uomini e donne, scelto poi da Clarissa Marchese, con cui è felicemente fidanzato. . Sembra proprio che si è creato un vero e proprio nido d'amore in casa Gregucci. . . Nella società d'oggi, dominata dai social, un annuncio di un fidanzamento fatto sul proprio profilo Instagram significa tantissimo, essendo garanzia di sicura verità. . Molto belle e significative sono anche le parole in didascalia, scritte personalmente da Maggie sul suo post, Se niente è per sempre, vuoi essere il mio niente?. . . Una bellissima dichiarazione d'amore, che avrà sciolto sicuramente il cuore di Alessandro ed ha reso felice il fratello Federico. . Un felice epilogo per Maggie, che sia l'inizio di una lunga storia. . Stando a quando scrive la stessa, sembra essere davvero una storia seria. . L'interesse si percepisce dalle parole e dalla foto dolcissima. . Il nostro augurio è che la coppia possa vivere serenamente la loro storia, lontani da occhi indiscreti ed in piena complicità. . . . . . .